Cosa servono le tasse? Tu hai i cittadini che lavorano, guadagnano generalmente poco. Talvolta, perché è bello per molti avere la casa propria, diciamo l'80% di casa propria, tu accendi un mutuo per pagare una casa che non è ancora tua. Perché devi pagare le tasse su una casa che non hai ancora pagato? Paghi il mutuo e anche le tasse. C'è qualcosa di profondamente insensato. Allora, io guadagno, mettiamo, 3.000 euro al mese, quindi una cifra medio alta ma in realtà oggi bassa. Quindi una cifra che vuol dire 100 euro al giorno. Do una parte di quello che guadagno perché a Firenze, per dire l'esempio, qualche demente, costruisca il Palazzo di Giustizia, costato 250 milioni di euro miei.